Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad una signora di Avignone in Francia, la quale mi chiede, dottore, cosa posso fare per la mia sinusite? Intanto togliere la parola mia. Per la sinusite, perché da molti anni ho questo problema cronico, ho fatto tutte le visite del caso, ma il problema persiste. Partiamo dal presupposto, lo dico a questa signora, ma lo dico anche a te che mi ascolti, che la sinusite va sempre agganciata al nostro passato, ad uno shock emotivo, a un qualcosa che ci ha turbati a livello inconscio. Ebbene sì, ritorniamo sempre al punto di pertenza, al nostro subcosciente. E se ti, anche da sola o da solo, se ti fermi un attimo a riflettere quando per la prima volta hai sentito questa sinusite al naso, con tutti gli effetti somatici che tu ben potrai conoscere, e conosci, capirai di cosa sto parlando. Che può essere un forte spavento, una forte rabbia, la paura della morte, un forte litigio e compagnia bella. Ora, che cosa si può fare? Si può utilizzare l'ipnosi di CS vera e professionale, unica al mondo, per eliminare la causa del problema della sinusite al proprio naso. Io mi ricordo un caso di un cantante molto famoso, il quale si trovava in Giappone, a più, non mi ricordo più quanti chilometri, online, su Skype, lo ha aiutato, prima di entrare in scena, con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, ad eliminare in pochi minuti il suo problema. E non finiva più di ringraziarmi, perché di solito quando, prima di cantare, gli si tappava il naso, aveva problemi di naso, il suo medico gli aveva detto che era sinusite, gli aveva dato i famosi spray, gli aveva usati, ma di fatto il problema rimaneva. E gli succedeva ogni volta, prima di entrare sul palcoscenico, per cantare. Per cui, che cosa può fare la tua mente, il potere della tua mente? Non è un discorso delle parole che utilizzo, che sono comunque create ad arte, ad hoc. Cosa può fare il potere della tua mente sul tuo corpo? La tua mente, il tuo subcosciente, comanda sul tuo corpo, sul naso, sulle orecchie, sugli occhi, sulla pelle, sugli organi, sui comportamenti, i movimenti, il tuo subcosciente, il tuo pilota automatico, il tuo genio della famosa lampada di Aladino, che comanda sulla tua vita visibile e invisibile. Io lo so che queste cose a scuola non te le hanno insegnate, non le insegnano a nessuno, neanche nelle nuove università, perché ci vedono come macchina, non come mente, corpo e spirito. Ma funziona così, le esperienze dirette. E poi considera che il sottoscritto da più di 12 anni si ipnotizza a H24, anche in questo momento sono ipnotizzato, pur non sembrandone a te né a sedicenti esperti di ipnosi, ok? Con l'ipnosi DCS vera e professionale, con la V maiuscola, unica nel suo genere al mondo, lo ribadisco, perché il sottoscritto è partito da ipnotista autodidatta, tanti e tanti anni fa, e poi si è sposato nel 2008 con l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola della dottoressa Rina Brunini e del professor dottor Miguel Angelgarai, che non hanno uguale al mondo, neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale, tanto blasonata e pubblicizzata, e dalla quale io pure sono partito tanti anni fa, e pur ottima, nessuno dice il contrario, però che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi DCS vera e professionale. Un esempio è quello per il quale con l'ipnosi DCS vera e professionale la V maiuscola può aiutare anche il tuo caro che non vuole il tuo aiuto per ovvio o vari motivi, oppure non può essere aiutato. Penso ad un vecchietto buttato nel letto che non parla, non reagisce come lo era mio padre nel 2008 quando l'ho salvato con l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola della dottoressa Rina Brunini. Da Los Angeles a più di 11.000 km di distanza, online, su Skype, ok? come ho molte volte detto in altri video e scritto anche. Fammi tutte le domande del caso, se hai qualche dubbio, puoi veramente uscirtene anche con un solo audio mi IP3 DCS come non stress, molto controllo dei nervi, oppure audio personalizzati come no sinusita e compagnia bella, oppure andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola della tua zona, anche se non utilizzo il metodo DCS, perché al momento ho sospeso le sessioni online di ipnosi DCS dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube benessere ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi anche sui altri social, Instagram e Twitter benessere ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia, alla prossima. Ciao.